Sì, rifresciamo Aspè Sì, rifrescia, rifrescia, rifrescia Siamo ripartiti, sì Siamo live Sì, siamo live We are back, boys Dicevamo Connessioni italiane Dicevamo, shout out alle connessioni italiane Esatto Che bella l'infrastruttura italiana Le persone su mobile Usano al massimo Pornhub su mobile, sono persone tristi Perché hanno uno schermino piccolo E gli si lagga il telefono Mentre chi ha il pc Può avere 70 pagine aperte La big dick ha energy di avere 50 tab aperte Esatto Boy Per un attimo ho capito come funziona Come funziona I leak E ho capito che ogni volta che fa Che il mio salto Lui mi farà Light Light with extend C'è proprio un momento di visione Mistica Aresce sta bene, sì Bella Bella Non teniamo Covid Non c'è Covid Non c'è Covid Non c'è Covid Mi pensi che questo è merito Esatto Oh no, c'è l'algoritmo Esatto Sì, però solo per quel match Perché fidati se giochiamo ancora adesso Io non Non lo capisco Sì, Glenn e magari Non mi ha riflessato l'attacco Sì, perché siamo morti Quindi abbiamo dovuto riflessare Non mi ha riflessato l'attacco L'attacco Pronto L'istanto merida di Beowulf È una cosa temibile Lo snap che porta dentro Filia E riesco a cavarmela Grazie al Gregor Beowulf È morto ma probabilmente Filia non durerà Esatto Road Tag Cerchendo di fare quello che era successo prima Cosa? Cosa? Non è una cosa Beh, se mi muove a fracciano a te Mmm Che falla Dai no Eh, la scent muovi sempre ogni volta Gio zum da 3 Non ho ancora capito qual è il metodo per far la refresh rate Quella roba la odio, ma il trisho è Che cosa è orribile Grappare smet Eccolo Fai da, favo il fator way Personale E vabbè, datemi un overlay neutro Va bene, usiamo questo overlay che è più pulito e fancy Esatto Ok, questo era l'ultimo game del set Sì Ci apprestiamo Ci apprestiamo a vedere l'ultimo match Che è Deer Tross contro Pixie, giusto? No Chi manca a vedere? Non lo so Dovremo vedere almeno 2 set Ah ok, ok Dovremo vedere o me contro Deer Tross o Pixie contro Kerbal Cosa lascio decidere la chat Compresi come voi Pixie contro Kerbal Pixie contro Kerbal Ok, allora sì, credo sia meglio Pixie contro Kerbal Perché forse Deer Tross è già stato on screen, no? No E neanche Kerbal E neanche Kerbal però è stato effettivamente Sì Vabbè Se Pixie mettesse nel suo team anche Peacock diventerebbe il pack italiano praticamente Cioè zona più di qualsiasi zona il suo team Secondo me In realtà al team di Pixie Starebbe bene un bel DPS assist Per levarsi l'idea per scavare La giocazione è un po' Sì ha preso Band per un attimo Ha preso Band per un attimo No ma non vuole essere così tanto bullizzato Secondo me dovrebbe prendere Parasol Chiamare Pillar Pillar Robo è fortissimo Un altro personaggio che può fare screen control Oppure Filia Oppure Upload Però Pixie Non ha così danno per rom Non è Per giocare Filia Mio Dio, quanti replay? Troppi replay Gabibbo Gabibbo Sì Del Napoli Esatto Ah bei tempi Cato Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Mamma mia Oh mio dio Ma giusto per sapere SSD La hard disk che usi Cioè la memoria che usi Cosa non è hard disk La memoria che usi è SSD? No è un PC E' l'unica cosa che ho sbagliato Facendo questo PC E' per questo che ci vuole così tanto tempo Perché con l'hard disk deve trovarsi Infatti non ho mai avuto problemi con i replay E' l'SSD Quando poi la prendi Dici oh mio dio come ho fatto vivere senza sta cosa Ah ma infatti me ne dovevo prendere uno E poi ci devo installare Il sistema operativo Sì Sistema operativo su SSD Tutto il resto sull'hard disk Tranne i replay di Skylux No Ah i giochi giochi su SSD A meno che non pesano Vabbè 90 GB In quel caso magari Non usare Ah mi sembra nel dito Sì Che numero è il replay? 2100 Dobbiamo il numero 2100 Sarà a lungo viaglio Sì Ma il replay e gli amici che ci siamo fatti Esatto Guarda tutti questi replay che potremmo guardare Questo Tony e questo Loth contro Dirtros Lilla contro Tony Guarda tutti gli amici che sono Tutti gli amici Credo che abbiamo visto abbastanza magic per questa settimana Credo che farò meno danno per la settimana prossima Perché Perché non è possibile vedere così tanti match Praticamente ho giocato solo io A momenti Ehi ciao Io sono io Ehi ciao Io sto giocando Peacock, Robo, Parasol Taffa You are taffa Non è possibile Questo non è Tony Non stavo giocando Tony È possibile che stesse giocando Qualche familiare Bevo figlia Bevo figlia Ah sì Ah sì Era point figlia con taunt assist Ah sì 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 Ci ho fatto un team Ho fatto un team Filia, Fukua, Bevo Con Bevo taunt assist E poi Normalmente ho tenuto Fukua e Filia Con gli assist normali Perché se no Perché non trovo un assist da mettere a Bevo Attenzione Abbiamo i replay Senza nome Ok Comunque per informazione di nessuno Trending su Twitter C'è 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 hashtag Ciro Trending su Twitter Let's go Ce l'abbiamo fatto Siamo arrivati a destinazione Siamo arrivati a presto Siamo arrivati a presto Siamo arrivati a presto Per fare danni ambizionali Cosa che Non vediamo Siamo arrivati a presto Cross up Torni che scrive Ho fame in chat Ho visto adesso Eh beh sì Si è fatta anche una certa Wow ho ucciso l'ultimo hit Volevo 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 In protezione di essere un po' diverso Di dire Proprio gli emoti Che mi ha detto Ma Non so Bicciato Volevo Troppendermi Quando Sono arrivato Lui la fa E lui vabbè Lui va imperterrito tanto In questo momento Robo sta Allontanando i paparazzi Da squiggly Esatto Ehi la chat è tornata Anche live Let's go Let's go Pogba Showtime Showtime Ho notato anche Quando fa La livello 1 In area fortune Dice Wow I'm close home I'm close home Yeah Pics è entrato in modalità zoning Wow Oh 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 Dio Wow Doppia super Cos Oh Ok Wow Un package per il roll tag Purtroppo anche Volevo non ha le barre Neanche per lo snap Quindi Non può snappare Guarda guarda il smash Guarda guarda il smash Ma perché? Ma perché? Perché? Non si capisce molto bene perché Mi è molto fare un box Sì Wow Wow Jump È una volta che provo con il turno Adesso a tutti Secondo me questo è tipo il concetto delle scimmie che per un milione di tasche ma poi dovrà succedere Esatto Picsì che non si capisce bene però smette di bloccare Non puoi fare male all'avversario se continua a parare È vero Però puoi farti male da solo se smetti di parare È vero anche quello Questo è l'importante Far male a qualcuno Sì Sì oh oh nice ok oh nice ok 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 che vero però esatto esatto ok l'arrivo da 3 però non ho bancato il po' che cosa va bene ok figo doppia sweep doppia sweep il bim pixi in modalità peacock quel video mi ficca esatto oh è funzionale esatto non ho bisogno di usare le mie 3 barre rip non hai potuto spammare il livello 3 mi dispiace no non avrei potuto che la rawa era di sicuro più veloce della livello 3 però vabbè sai che cosa sarebbe davvero ottimale? se quando vi mandate replay li mandate già numerati così io posso far partire il replay viewer automatico esiste un programmino in che senso è già numerati in che senso è già numerati? perchè io devo campare devo rimanerare poi era l'ultimo hit della ah ma dovremmo sapere ogni volta eh a che numero di replay sei comodo un attimo che il mio cane si è messo a piangere per me subito oh no un solo lo faccio lo farò un combo questo con le altre barra una barra una barra ci danno si infatti l'ho perfetto infatti danno solo l'assist di swing che è tutta la combo di roboforti wow scusa un combo è venuto ok di carby ha un necessario più wow che buona galope Qual è il round qua? Secondo o terzo round? Terzo credo? Quindi avete già visto la mia vittoria? Penso di sì? Sì Ok Io dimentico subito quello che succede Tipo finisce il round Ok 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 Oddio oddio Nasi Dì 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 No la faccio di spaz Non ho la faccio di spaz Non ho la faccio di spaz Non ho la faccio di spaz Wow unblockable Guarda i danni ha fatto Nooo Avrei dovuto rimanere a premere tassi Oppure fare il crossing di un punch per l'hunter Io mi riferivo in questo Con la stessa cosa che è successo adesso In quella situazione avrei dovuto continuare a premere No invece La blocca bolla è stata fatta Che inizio Adesso Non ne ho mai avrei che Non ero Avere in questo Per Le kick Le kick Le cloni non è vero non vero non è vero non è vero ok non è vero Sì, non mi viene proprio finito, ho fatto che non mi sono venuto a combattere i suoi priate. Credo di dare. Wow! No, no, no! Sva- Svegliate, svegliate, svegliate! Svegliate, svegliate! e probabilmente ho semplicemente premuto heavy kick e heavy punch non l'ho fatto la rivela 3 aspettava essere la vittoria mocio fa ok qual'era? questo? ciao ciao oh! ho lasciato il dito tanto ha un 2 2 barre mi sto affarando ho smesso di parare evidentemente oh mio dio! mi vuole tracking ma il snap è quando hai una livella 3 si esatto perché mi ha bisogno di acusare bello quel panico c'è lo snap ok c'è la mina a terra, sopra spigli non c'è la mia ma non c'è la mia ma non c'è la mia come l'ho detto vabbè fra c'è che ci opera si è preso un mille di chip ok questo è l'ultimo replay della serata ok allora io ho una domanda toffel di solito gioca a peacock chi? toffel si oh oh nooo sto facendo una partita adesso e squiggly si nooo appena fatto ero tag squiggly lol a round start mi ha preso ovviamente ovvio aspetta gioca cosa? ah canto ok gioca ok presso di kerby prende il job bff wow quanti danni ma ce la fa bixi a fare la rimonta? canto raid perde la carica ok un altro counter indirizzo prende le barre oh adesso si ok bravo cadene la carica e uccide chipando guarda che era safe wow sensai ok ok lvl 3 in panico e c'è il punish quello ti ha vomitato adosso eeeh it's all folks it's all folks it's all folks si chiude la prima settimana della season 3 grazie a tutti e alla prossima bella